In questo video ragazzi parleremo di caratteristiche, nello specifico sono sei e vanno a determinare quindi quelle capacità fisiche e mentali che caratterizzano il nostro personaggio. Quasi tutto quello che faremo sarà influenzato da queste sei caratteristiche che nello specifico sono forza, destrezza, costituzione, intelligenza, saggezza e carisma. La forza misura le doti atletiche innate e la potenza fisica. La destrezza, l'agilità fisica, i riflessi, l'equilibrio, la prontezza, la costituzione, la salute, la resistenza fisica, l'energia vitale, l'intelligenza, la cume mentale, la memoria, le doti analitiche, la saggezza, la consapevolezza, l'intuizione, la lucidità e il carisma, la fiducia in se stesso, l'eloquenza e l'autorità. Ognuno di questi punti, punteggi, di caratteristica ci darà quindi un modificatore. Il modificatore che può essere negativo, zero o positivo si trova facendo il nostro punteggio di caratteristica meno 10 diviso 2. Avremo così che un punteggio di caratteristica 10 avrà modificatore più 0 un punteggio di 12 avrà più 1 14 più 2 quindi 15 sarà ancora più 2 e così via e così via. Un punteggio di caratteristica minore di 10 ci darà dei modificatori negativi quindi invece di aggiungere qualcosa al nostro tiro da 20 dovremmo andare invece a diminuire. Un punteggio di caratteristica pari a 8 o 9 avrà un modificatore meno 1 voi capite quindi che questi punteggi vanno individuati, messi con del criterio e si cerca sempre di andare a interpretare quindi il personaggio che abbiamo creato in maniera consona. Ci sono due metodi principali per trovare i punteggi di caratteristica lanciando 4 dadi da 6 e andando a togliere il risultato minore lo si fa per 6 volte e così si trovano i 6 punteggi di caratteristica è consentito dalle regole una volta poter cambiare i punteggi ma bisogna tenere il tiro successivo e il cambio va fatto dopo aver effettuato tutti e 6 i tiri. L'altro metodo a mio avviso più intelligente per un'edizione come la quinta è quello di comprare i punti si avranno quindi un totale di 27 punti da spendere un punteggio di caratteristica 8 avrà costo 0 9 costo 1 10 costo 2 11 costo 3 12 costo 4 13 costo 5 14 costo 7 e 15 costo 9 si andrà così a formare i 6 punteggi di caratteristica in questo modo possiamo avere da un estremo quindi avere 3 punteggi di 15 e 3 punteggi da 8 e avere quindi un guerriero magari con forza costituzione destrezza 15 ma tutte e tre le caratteristiche mentali a 8 quindi avremo un guerriero forte ma stupido con tanti punti ferita ma poco carismatico potremmo avere quindi anche un mago poco forte con pochi punti ferita poco agile ma con tanta intelligenza tanta saggezza e tanto carisma o invece distribuire i punteggi di caratteristica in maniera più intelligente cioè avere 3 13 e 3 12 e quindi avere 3 modificatori a più 1 e altri 3 modificatori a più 1 ma con 3 13 e 3 12 che cosa possiamo fare? adesso dobbiamo capire quindi che cosa sono le razze grazie a tutti